è il nostro rappresentante nelle istituzioni europee. Siamo già in Mondovisione. Mondovisione. Allora, io ringrazio tutti quelli che ci stanno guardando ora su Facebook e quelli che si uniranno su altri eventuali canali e do avvio al nostro incontro, al nostro webinar cosiddetto che è il secondo webinar che organizziamo nell'ambito di un progetto di quelli che stiamo realizzando intitolato Il Parlamento dei Diritti. Non a caso un progetto cofinanziato dal Parlamento europeo. Scusate, c'è stato un piccolo rumore. L'obiettivo di questo progetto è proprio quello di spiegare a tutti come funziona il funzionamento del Parlamento europeo nella definizione di politiche, in particolare in quelle che riguardano i diritti fondamentali. Ci occupiamo quindi di ambiente, di migrazioni, di diritti digitali, di antidiscriminazione nel corso di 12 mesi con una serie di attività, tra cui appunto dei webinar. Oggi ci concentriamo sulla politica estera e parliamo di un tema che per noi naturalmente è centrale. Parliamo del processo di allargamento ai Balcani occidentali. Vi presento subito gli ospiti presenti avvisandovi che il nostro rappresentante all'istituzione europea, il vicepresidente del Parlamento europeo e deputato dei Cinque Stelle al Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, ci raggiungerà appena riesce nel corso di questa oretta di chiacchierata. Intanto quindi, benché appunto lui sia il cuore del nostro ospite d'onore per il fatto di essere la persona a cui vorremmo fare le domande più importanti, credo tutti quanti, relative al ruolo che il Parlamento europeo riesce ad avere nei confronti dei Balcani occidentali. Vi presento però gli altri due importantissimi ospici che sono nostri amici di Osservatorio da un tempo immemorabile. In particolare Paolo Bergamaschi, già consigliere per la politica estera dei Verdi al Parlamento europeo, quindi il Parlamento europeo conosce molto bene per averci lavorato a lungo, che si è occupato tanto di allargamento e che da sempre collabora anche con Osservatorio Balcani che ha accasso tra l'Europa. E Roberto Spagnoli, vice capo redattore di Radio Radicale, che da anni è impegnato a seguire le trasformazioni del sud-est Europa anche con la sua trasmissione Passaggio a sud-est, che è una trasmissione di approfondimento sulle questioni politiche, socio-economiche dell'Europa sud-orientale, dai Balcani alla Turchia, con il quale collaboriamo appunto da tanti anni e che fa un grande lavoro di informazione su questi temi. Dunque parliamo dell'allargamento oggi, che sapete è una questione, un tema politica che si può dire si trascina da anni. A volte ci sono tentativi frustrati di rilanciarla, tanti ostacoli che si frappongono alla sua progredire, in particolare ostacoli dentro e fuori dai paesi dei Balcani occidentali. Dentro, la cosa più scontata che tanti di voi sicuramente conoscono, se leggono osservatori o Balcani caucas, sono i problemi relativi alla stabilità democratica di questi paesi, nonché a volte di vere e proprie derive autoritarie di alcuni leader politici, ma fuori sempre più spesso gli ostacoli sono quasi più insormontabili di quelli dentro. E non voglio essere troppo pessimista, ma è evidente un'ostilità crescente di alcuni paesi membri dell'Unione Europea che negli ultimi anni si sono distinti per aver fatto rallentare il processo per varie ragioni, quasi sempre di politica interna, ma con risvolti veramente gravosi sull'allargamento e naturalmente anche ruolo di potenze esterne alla regione. Si parla spesso di geopolitica, è un po' uno di quei discorsi che io amo poco, perché mi sembra un po' come quando... così, quei discorsi banalizzanti dei problemi reali del processo. In particolare, credo di non aver apprezzato per niente la definizione di commissione geopolitica invece voluta da questa Commissione Europea che appunto punta molto nel ragionare su come rilanciare il processo di allargamento proprio sul tema della competizione con le potenze straniere. In realtà queste potenze certamente giocano un ruolo di competitori e forse potrebbero stimolare il nostro interesse per sola regione, ma certamente non è il problema più importante che abbiamo di fronte. E comunque sembra non aver convento nessuno la competizione geopolitica, sembra essere un'argomentazione che non ha avuto per niente successo. Naturalmente abbiamo tanti problemi diversi che insieme a questo momento ai nostri due relatori potremo esaminare nel dettaglio. Certamente uno dei principali è quello di rendersi conto che l'altro grande allargamento, quello precedente, non quello l'ultimo, ovvero l'ingresso della Croazia nell'Unione Europea nel 2013, ma quello per cui si dice, si parla di un big bang per l'ingresso dei paesi postcomunisti dell'Unione Europea, ha deluso molti negli ultimi anni. E qui addirittura si sono viste, ne parliamo quasi tutti i giorni ultimamente, le derivi autoritarie di alcuni paesi membri dell'Unione Europea e l'atteggiamento di sfida, di messa in discussione delle istituzioni europee ripetuta, naturalmente fa scemare l'ottimismo di altri. Noi come osservatore Balcani-Caucaso ripetiamo da anni che in realtà un'Unione a 33 non sarebbe diversa o più difficile da gestire di un'Unione a 27. Però è evidente che quando a Polonia, Ungheria, che sono sulla bocca di tutti da molti anni, si aggiungono altri paesi ad assumere comportamenti preoccupanti, allora la questione comincia ad essere particolarmente seria. L'ultimo paese che si è messo di mezzo, naturalmente l'avete sentito, è la Bulgaria, che ha posto il veto all'apertura della conferenza intergovernativa che attendevano da tempo Macedonia del Nord e Albania. È una conferenza necessaria per poter aprire i negoziati e che invece si continua a rimandare da molto tempo. Quindi abbiamo paesi membri con questioni bilaterali e molti paesi membri che questioni bilaterali non ne hanno o che a volte si nascondono dietro quelli che le questioni bilaterali ce le hanno. In particolare Francia, Olanda, cioè Paesi Bassi, hanno un paio di anni fa voluto un cambiamento dell'approccio ai negoziati con l'idea che servisse per convincere le rispettive opinioni pubbliche dell'utilità di proseguire in questo percorso. Parleremo anche di questo. Certamente la mia impressione è che appunto questi paesi oggi sembrano meno ostili all'allargamento perché ci sono quegli altri che si mettono di mezzo ma ci troveremo negli anni a venire ad avere certamente una serie di problemi legati a cosiddetti vecchi paesi membri. Allora, oggi noi dobbiamo però cercare di focalizzarci nel nostro ragionamento su cosa può fare il Parlamento Europeo. Proprio ieri Sassoli ha fatto delle dichiarazioni a seguito di un incontro tra parlamentari dei paesi della regione e parlamentari del Parlamento Europeo nella quale Sassoli ricordava che il Parlamento Europeo è ampiamente interessato a favorire la cooperazione e la riconciliazione nei Balcani occidentali e l'allargamento e l'allargamento rappresenta un investimento per l'Europa. Ma il Parlamento Europeo che ruolo ha in politica estera? Ecco, questo penso sia il primo tema che dobbiamo trovare ad esaminare perché un ruolo ce l'ha. Non è certamente importante come quello in cui si può votare a maggioranze qualificate su altre politiche centrali dell'Unione Europea. Qui bisogna avere il consenso di tutti. Si va per le decisioni vanno all'unanimità ma un ruolo ce l'ha e possono esercitarlo sia i parlamentari che i gruppi politici che i paesi membri dell'Unione Europea stessa attraverso i rappresentanti alle istituzioni europee. Allora direi che lascio quindi per prima la parola a Paolo Bergamaschi che il Parlamento europeo ha il suo ruolo lo conosce per molti anni per averlo frequentato per averlo animato appunto dentro il gruppo dei Verdi che ancora ci spiegherai tu Paolo segue le attività di alcuni europarlamentari. Che cosa può fare il Parlamento europeo? Quali sono le azioni che potrebbe mettere in campo per rilanciare questo processo di allargamento? Quelle che ha messo già in campo quelle che potrebbe mettere in campo per riuscire a capire davvero se c'è qualcosa che noi da elettori possiamo fare per spingere affinché questo ruolo se lo assuma in fondo. Paolo Bergamaschi grazie a te la parola. Grazie Luisa saluti da Pristina perché mi trovo accidentalmente incidentalmente a Pristina qui in una missione recuperato per una missione di una di Viola von Krammel un'europarlamentare tedesca che mi ha chiesto gentilmente di accompagnarla nella sua prima missione ufficiale come arredatrice per il Kosovo peraltro io il Kosovo l'ho sempre seguito perché è stato sempre un po' il mio giocattolino in Parlamento perché tutte le risoluzioni sul Kosovo e tutte le attenzioni particolari sul Kosovo venivano dai deputati che io seguivo per cui mi ritrovo da circa una settimana a Pristina mi fa piacere partecipare proprio perché ho il polso diretto della situazione in uno dei paesi incriminati per cui rispondendo alla tua domanda cosa conta il Parlamento europeo in politica estera così conta ed è una delle grandi questioni che sono all'ordine del giorno all'interno dell'Unione Europea ma partirei però da una cosa che probabilmente non so se hai omesso o hai dimenticato di dire Luisa il 9 maggio scorso è partita la conferenza per il sul futuro dell'Europa e purtroppo non sono stati invitati i sei paesi dei Balcanici per cui sembra che il futuro dell'Europa non tenga conto delle ambizioni dei paesi balcanici di entrarne a far parte ed è secondo me stato un atto di scortesia e di disattenzione totale nei confronti di paesi che hanno sempre dedicato tantissima attenzione nei confronti dell'Europa che aspirano ambiscono ad entrare a far parte del progetto europeo e che continuano in un modo o nell'altro ad essere esclose faccio riferimento tu giustamente hai ricordato il Big Bang del 2004 che ha portato i paesi dell'Unione Europea da 15 a 25 e fra i 10 nuovi ingressi ben 8 venivano dai paesi dell'Europa centro-orientale ebbene i tempi che dovevano maturare per l'ingresso nell'Unione Europea erano i criteri di Copenaghen sono stati stabiliti nel 1993 al vertice di Copenaghen ripeto per chi non è addentro a questa terminologia molto tecnica i criteri di Copenaghen furono decisi dai paesi membri dell'Unione Europea per facilitare per misurare il progresso dei paesi che ambivano ad entrare nell'Unione Europea e per misurarli su alcune questioni specifiche i tre criteri di Copenaghen erano i criteri politici dove si misurava il consolidamento delle libertà democratiche delle istituzioni democratiche criteri economici dove si verificava l'affermazione dell'economia di mercato perché questi paesi passavano tutti da un'economia di piano e la terza il recepimento dell'acquisito comunitario cioè l'acquisizione della trasposizione della legislazione comunitaria nella legislazione nelle rispettive legislazioni nazionali a questo poi sono stati aggiunti altri criteri fra le righe che hanno ulteriormente complicato le cose però dal 93 al 2004 anno del Big Bang considera che consideriamo che viene adottato Copenaghen subito dopo Copenaghen vengono presentate domande d'adesione vengono verificate le domande d'adesione da parte della commissione che è il compito di fare lo screening di queste domande d'adesione partono i negoziati e se verifichiamo ad esempio quello che è successo con la Croazia subito dopo la Croazia ha ottenuto lo stato di paese candidato se non vado errato nel 2004 nel 2005 sono partiti i negoziati che sono stati immediatamente sospesi per la mancata collaborazione della Croazia con il Tribunale Internazionale per i crimini di guerra nella ex Ivoslavic poi il famoso caso del generale Gotovina che non si trovava anche se era presente in Croazia e non veniva arrestato però poi la Croazia nel giro nel 2013 è entrata per parte dell'Unione Europea per cui tempi dai 7 ai 9 anni tempi ancora gestibili più o meno i tempi che si sono verificati per i paesi precedenti anche quelli nel giro di 7 anni sono entrati fra negoziati e ingresso e quindi è ratifica da parte del Parlamento Europeo torno a quello che tu dicevi qual è il compito il valore del Parlamento Europeo in politica estera beh nel caso dell'allargamento ricordiamoci che e lo dico in generale i trattati internazionali hanno bisogno della ratifica del Parlamento Europeo quindi il voto vincolante del Parlamento Europeo avviene sul trattato d'adesione questo sì però per tutto il resto il processo d'adesione il Parlamento Europeo segue viene informato consultato a volte ma non è detto che le posizioni del Parlamento Europeo vengano tenute in considerazione dal Consiglio e dalla Commissione per cui il potere ce l'ha il Parlamento Europeo ma è un potere che poi è alla fine ed è un potere di dire sì o no all'ingresso del Paese ma non entra nel merito dei negoziati in corso però può fare pressione è chiaro è in continuazione su tantissime questioni bene andiamo avanti guardiamo quello che è lo stato attuale dei Paesi che tu citavi prima i Western Balkan 6 WB6 come vengono comunemente definiti con l'acronimo in inglese beh insomma tu hai citato prima il caso della Macedonia che tra l'altro la Macedonia ha avuto la disavventura di entrare e far parte in coppie con l'Albania per cui tutte le disgrazie dell'Albania ricadevano anche sulla Macedonia e tutte le disgrazie della Macedonia oggi ricadono anche sull'Albania di fatto ancora sono ferme al palo Macedonia e Macedonia del Nord e Albania proprio perché non ottengono una luce verde all'apertura dei negoziati nonostante il caso più lampante il caso più drammatico quello della Macedonia ricordiamoci che la Macedonia ha ottenuto lo statuto di Paese candidato nel 2005 quindi a distanza di 16 anni non si è ancora mosso nulla nel senso che i negoziati non sono ancora partiti per cui sono tempi geologici sono ormai si rischiano si rischia davvero di umiliare questi paesi nella loro ambizione di ingresso e non prestare sconto a quello che succede per cui da una parte c'è una fatica dell'allargamento che tu hai citato prima fra alcuni Paesi membri dall'altro si sta esacerbando una frustrazione paurosa tra i Paesi candidati che porta poi a situazioni paradossali dove l'Unione Europea non si prende le proprie responsabilità non porta avanti le promesse e sono state tantissime le promesse fatte nei confronti dei Balcani ma poi la stessa Unione Europea si meraviglia che i Balcani diventino un'area di competizione dal punto di vista geopolitico anche se è una parola che a te non piace Luisa un'area di competizione geopolitica con l'Ussia, Cina e Turchia che ovviamente si infiltrano e cercano di riempire il vuoto lasciato dall'Unione Europea perché in geopolitica le cose funzionano così dove non vanno gli uni vanno gli altri però questa è la situazione della Macedonia che è la situazione più emblematica paradigmatica e paradossale di quello che è il processo d'allargamento oggi però guardiamo non so il paese che è in stato più avanzato di adesione il Montenegro ha ottenuto lo statuto di paese candidato nel 2010 ha aperto le negoziate nel 2012 guardate intendiamoci fra noi gente che mastichiamo molto di Balcani includere far entrare nell'Unione Europea un paese di 700.000 abitanti non è grossa cosa è un paese assolutamente gestibile eppure i paletti messi nei confronti del Montenegro sono stati tantissimi e vorrei concludere perché c'è un altro ospite che immagino Roberto Sbaglio abbia voglia di parlare di intervenire anche perché poi dopo quando entrava in trasmissione anche Fabio Castaldo avrà moltissime cose da dire anche perché anche lui è un esperto di Balcani e mastica molto di Balcani però è una situazione paradossale però tu facevi riferimento a obiettivi problemi interni dell'Unione Europea e questi problemi ci sono ora io vorrei passare velocemente perché lo vivo con una forte frustrazione io stesso questa fase di restringimento dell'Unione a riportarla nel mode dell'allargamento dopo la Brexit siamo tornati a 27 paesi per cui dopo il restringimento ritorniamo con la politica d'allargamento è tempo di farlo però ricordiamoci che ci sono dei grossi nodi che devono essere risolti delle riforme che devono essere portate a termine all'interno dell'Unione Europea faccio riferimento in particolare a due articoli del Trattato di Lisbona che sottopongono la vostra attenzione è chiaro che come tu giustamente hai detto Luisa nessuno vuole ripetere la situazione di Ungheria e Polonia per cui si cercano di prendere le adeguate contromisure per evitare che questo succeda ancora per far questo però bisogna rendere applicabile e leggibile l'articolo 7 che è quello che sospende i paesi che violano i valori fondamentali dell'Unione Europea ora sappiamo tutti che l'articolo 7 tu puoi iniziare le procedure però l'articolo 7 con la storia che corre l'unanimità quasi per tutto eccetera eccetera è un articolo inapplicabile per cui l'Ungheria o la Polonia la faranno sempre franca l'articolo 7 e poi tu facevi riferimento giustamente al fatto che in politica estera occorra l'unanimità una delle poche politiche dell'Unione Europea che richiede ancora l'unanimità vorrei fare riferimento all'articolo 31 perché è l'articolo appunto che prevede l'unanimità per quanto riguarda la politica estera di sicurezza comune che è quell'articolo che sta condannando l'Unione Europea all'inezia di fatto all'iniettitudine perché abbiamo visto negli ultimi due o tre mesi quante volte l'Ungheria ha utilizzato il proprio veto ad esempio per le dichiarazioni che le posizioni che l'Unione Europea doveva prendere nei confronti della Cina sulla questione di Hong Kong eccetera è sistematicamente bloccate dall'Ungheria ma ormai sta andando avanti da troppo tempo oppure ricordiamoci la crisi recente di Gaza dove l'Unione Europea con una crisi in corso molto pesante l'Unione Europea non è riuscita a fare sentire la propria voce perché ha mancato una posizione comune tra l'altro su una posizione di basso profilo l'Unione Europea non è riuscita nemmeno a dire che occorreva rispettare il diritto internazionale perché l'Ungheria ha posto il veto a una dichiarazione comune per cui si è arrivati ad una dichiarazione informale di 26 paesi che non corrisponde però alla potenza che avrebbe avuto una dichiarazione dei 27 una dichiarazione comune dell'Unione Europea per cui siamo in questa situazione di stanno una situazione difficile da gestire ecco io ho richiamato l'attenzione su alcune questioni però ricordiamoci io personalmente non sono ottimista te lo dico nel senso che lo dico per te nel senso che tu fai in tempo andare in pensione prima che si risolvano a tutti i paesi del Balcane perché continueranno ancora per tantissimo tempo per cui ci saranno tantissimi tantissimi altri programmi immagino del Parlamento dei diritti che verranno commissionati all'Osservatorio Balcani Causo per essere portati avanti nella regione per dare il contentino anche ai paesi della regione quindi buon lavoro Luisa perché c'è tantissimo lavoro da svolgere non siamo così umbilicali per fortuna e ci occupiamo di tante questioni per cui siamo sempre molto convinti del voler dare questo sostegno e insieme nonostante il tuo pessimismo che è anche il mio io vorrei sottolineare che in realtà è vero che il Parlamento Europeo ha un potere prevalentemente di ratifica per cui come dire è davvero la commissione quella che ha il ruolo più grosso da giocare però la politica conta moltissimo e quindi è anche il luogo nella quale le scelte possono essere influenzate e ci sono tante scelte da influenzare e tra queste ci sono i gruppi politici nei quali queste scelte potrebbero essere influenzate e ultimamente hanno messo sotto la graticola Orban proprio perché i popolari europei l'hanno finalmente tagliato fuori dal loro gruppo ma diciamo che il ragionamento su quale ruolo politico si può prendere il Parlamento quindi di azione di influenza sui governi sulla commissione e anche sui cittadini diciamo perché la politica influenta i cittadini non è soltanto che viene eletta va probabilmente guardata nel dettaglio non ultimo un aspetto che non hai citato Paolo è probabilmente anche quello il ruolo che il Parlamento ha invece che gioca sul bilancio e se c'è una cosa che l'Unione Europea sta facendo anche lì con una certa discontinuità o contraddizione è comunque quella di mettere a disposizione risorse ingenti per i Balcani sono pochissime rispetto a quelle che mette a disposizione dei paesi membri ma sono tantissime rispetto a quelle che mette a disposizione di qualunque altro paese del mondo e il Parlamento su questo ha un ruolo sia di scelta che rispetto al bilancio che poi di verifica quindi forse dovremmo provare a spingere di più perché questo ruolo venga conosciuto la domanda quindi che mi piacerebbe rivolgere a Roberto è quanto è facile o quanto è difficile cercare di far capire questo ruolo in politica estera delle istituzioni i singoli pezzetti di responsabilità perché sappiamo appunto che il Parlamento europeo è il codecisore e dove le decisioni non sono all'unanimità come in politica estera ma maggioranza qualificata ha un ruolo importante e ciò nonostante anche se pensiamo ai Balcani alla questione migratoria sulla rotta balcanica lì si potrebbe decidere la maggioranza qualificata perché la politica migratoria è una politica comune e però non si riesce lo stesso a fare un passo avanti da parecchi anni a questa parte com'è che si fa a fare informazioni su questi temi che qual è la tua visione del ruolo del Parlamento e perché non riescono i nostri europarlamentari il nostro paese in senso lato a far valere quello che ufficialmente è sempre l'interesse italiano in politica estera l'interesse numero uno cioè far procedere l'allargamento velocemente a te la parola Roberto Spagnoli mi hai fatto una bella domanda insomma mi hai colto un po' preparato anche perché io sono io sono il mio mestiere è stare soprattutto ad ascoltare no? e poi magari però giustamente hai toccato esattamente il mio lavoro ma intanto faccio una breve premessa una sorta anche un po' così autopromozionale perché io faccio questa trasmissione ormai da quasi 16 anni passaggio a sud-est e il nome nacque proprio perché pensando che attraverso l'Europa sud-orientale passa il futuro dell'Unione Europea come progetto politico e attraverso la scelta dell'integrazione europea cioè in questo progetto passa il futuro dell'Europa sud-orientale ora detto così è un po' sloganistico però siccome sono un inveterato europeista provo assurdo che questa questa regione che sta nel cuore dell'Europa proprio nell'incrocio delle diagonali non si riesca a coinvolgerla concretamente in un processo di adesione e ricordo mi è venuto in mente in questi giorni appunto scartabellato un po' di cose per farmi qualche appunto che per esempio nel 1984 Marco Pannella in una manifestazione elettorale disse abbiamo condannato la Jugoslavia alla sua indipendenza nazionale cioè al suo fallimento perché già alla metà degli anni 80 il partito radicale chiedeva l'ingresso immediato dell'allora Jugoslavia nella loro Commissione Europea e di lì a quattro anni cioè nell'88 Pannella prefigurò quello che si andava preparando disse se qua non interveniamo entro due anni succederanno conflitti sociali e regionali di gravità inaudita ma sbagliò di un anno perché proprio in questi giorni sono trent'anni insomma che sono cominciate le guerre e guerre jugoslave e ho ritrovato anche questo fatta questa premessa perché questo mi porta a dire che ho ritrovato una cosa che scrisse la International Balkan Commission quando disse il vero referendum sul futuro dell'Unione Europea si terrà nei Balcani scusa 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 l'intervento Luisa io sto ricevendo messaggi siamo in onda quindi stiamo improvvisando tutto continuo a ricevere messaggi da Fabio che sta cercando di connettersi Castaldo ma non riesce a connettersi ci sono eccolo qui eccolo qui come non detto bene 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 va bene lasciamo lasciamo proseguire Roberto benvenuto onorevole Castaldo buonasera buonasera a tutti grazie grazie per il invito Roberto sì allora dicevo appunto la International Balkan Commission credo una quindicina di anni fa o forse qualcosa di più disse appunto il vero referendum sul futuro dell'Unione Europea si terrà nei Balcani e io questa cosa continuo a pensare in fondo quello che dicevate voi che avete detto voi due dice questa cosa secondo me lì si gioca secondo me il futuro dell'Unione dell'Unione Europea se l'Unione Europea riesce a risolvere questo nodo non c'è riuscito purtroppo 30 anni fa e adesso però se lo ritrova davanti l'Unione Europea in fondo come dire potrei dire parafrasando un'altra cosa è pratica della crisi cioè l'Unione Europea in fondo nasce perché dopo la seconda guerra mondiale perché le due potenze egemoni dicono mettiamo insieme le materie prime così non ci facciamo più la guerra e da lì in poi è venuta fuori per passi successivi in fondo anche l'euro quando si dice è stato adottato l'euro però prima bisognava fare una politica economica comune verissimo però intanto abbiamo adottato una moneta comune l'Unione Europea in questi anni ha rischiato grosso ha rischiato veramente tanto e rischia continuamente di andare in pezzi però insomma la pandemia ha dato ha messo in moto qualche cosa in fondo sono stati creati i bond europei sono stati dati dei soldi sono stati cioè è un abbozzo di politica economica comune ora è tutto in nuce potremmo dire adesso non vorrei sembrare come si dice illudermi però ci sono cose che si mettono in moto però qui secondo me arriva al nodo e poi arriva la tua domanda Lusa cioè l'Unione Europea deve risolvere il suo ordinamento interno perché non è possibile che ci sia su alcune questioni ci sia il diritto di veto cioè la Macedonia non riesce e l'Albania non riescono ad aprire la Macedonia non riesce ad aprire le negozioni di adesione perché per questioni culturali linguistico-storiche la Bulgaria si mette in mezzo non è possibile un domani la Malta potrebbe impedire l'ingresso della Serbia per dire secondo me questa cosa qua va superata e così come va superata la diarchia o la codecisione perché e qui ancora scusate ma gioco in casa cito sempre una cosa che disse una volta Marco Pannella disse se un paese chiedesse che avesse l'ordinamento che ha l'Unione Europea chiedesse l'adesione all'Unione non gliela darebbero perché non è confone cioè infatti abbiamo un Parlamento che ha dei poteri ma sono limitati abbiamo una Commissione Europea che è un dovrebbe essere un governo ma è un organo esecutivo perché il governo è il Consiglio Europeo fatto dai governi quindi ora tutto questo è inevitabile ovviamente questo è stato il processo che ha portato all'Unione Europea quindi adesso non sto facendo però secondo me sono questioni che vanno risolte perché altrimenti è vero passare da 27 a 33 non è che ci sia una grande differenza e però dovremmo arrivare anche a una quarantina e allora veramente anche Andorra potrebbe bloccare chissà che cosa adesso faccio ovviamente faccio battute su questo la metodologia la nuova metodologia per negoziati di adesione può essere positiva secondo me se dovrebbero esserci dei tempi certi dovrebbero esserci degli stai in fondo il meccanismo del recovery plan cioè noi dovremmo rendere conto nel giro di ciò dei soldi che ci daranno avremo delle verifiche dei tempi sicuri altrimenti dovrebbe essere lo stesso per i negoziati di adesione secondo me perché altrimenti si frustrano come diceva Paolo Bergamaschi tu frustri le aspettative crei delusioni crei reazioni e apri lo spazio a altri attori internazionali per cui io su questo non sono molto d'accordo secondo me è una questione geopolitica questa cioè l'ha detto proprio Viola von Kram l'ho visto su un'agenzia dice l'integrazione dei barchai nell'Unione Europea è una questione geopolitica non di politica interna dei singoli paesi è chiaro che l'Unione Europea è diversa dalla Cina o dalla Russia perché è portatrice anche di altri valori di un progetto politico che è totalmente nuovo nel mondo e non si era mai visto quindi questo deve far valere però è chiaro che ci misuriamo su uno scacchiere geopolitico lì purtroppo c'è poi il problema no no ma non è polemica poi lì c'è poi il problema che poi c'è un gasdotto e allora che viene dalla Russia e gli interessi sono ma torniamo al problema come si comunica tutto questo per venire fanni lasciare spazio è questo il problema perché perché secondo me il problema è alla radice cioè a volte è la stessa Unione Europea e parlo di istituzioni che non riescono bene a comunicare se stesse cioè ancora oggi sentiamo parlare di misure delle banane o di misure di cose di cose assurde oppure si spaccia cioè l'Europa diventa un'entità a sé per cui ci sono delle decisioni che ci vengono imposte il peccato è che le decisioni vengono prese dal Consiglio Europeo quindi c'è il governo che sono all'unanimità quindi non è che noi stavamo fuori dalla porta quando prendevano certe decisioni e però sentiamo anche nel Parlamento italiano ripetere luoghi comuni che sono totalmente falsi totalmente falsi e nessuno che si alzi a dire scusi onorevole guardi che la cosa che sta dicendo non è così l'Unione Europea funziona in un altro modo comunicare tutto questo è complicato perché perché certo perché è difficile far capire il funzionamento di una istituzione complessa però io penso che bisogna raccontarla questa cosa e raccontare come per esempio il ruolo del Parlamento Europeo il Parlamento Europeo ha dei poteri magari limitati ma ce l'ha un peso e la politica l'hai detto diceva tu Luisa la politica conta moltissimo la politica si fa si sta facendo politica e costruendo il consenso qui però investe completamente il ruolo nostro di chi fa informazione cioè come tu ti poni di fronte a una cosa del genere alla complessità dei temi e quindi anche alla correttezza che tu metti nel raccontarli senza avere la pretesa di conoscere tutto perché anzi ho sempre detto che i Balcani sono una regione per cui poco che ne so che quando pensi aver capito tutto vuol dire che stai andando fuori strada e non hai capito più niente è una regione particolarmente complicata da spiegare però è uno sforzo che l'ha fatto perché perché poi premia secondo me qui mi chiudo chiedo scusa se sono stato un po' confuso un po' un po' perché quando fanno vedere dei sondaggi che dicono ah è calato in Italia il consenso all'Europa peccato che alla spalla c'erano anni di martellamento che tutte le colpe venivano dall'Europa poi arriva la pandemia l'Europa si muove facendo errore tutto quello ma si muove e risale il consenso non solo in Italia ma negli altri paesi e il nocello il nocello sta lì insomma e chiaramente è affidato al vorrei dire l'onestà intellettuale diciamo alla professionalità ecco diciamola così perché non voglio dare pagelle alla professionalità di chi fa informazione però secondo me è anche è anche di chi sta dall'altra parte perché se tu fai un trattato europeo che è un mattone così che sono non so quando cioè tu dici scusa la costituzione americana è fatta dei pochi articoli se tu mi fai un trattato che mi serve fare altri dei tomi così per capire il trattato è chiaro che comunicarlo diventa molto molto complicato sono andato un po' confuso ma insomma ho messo un po' di carne a fuoco sicuramente sicuramente Roberto e penso tra l'altro tu abbia ragione nel sottolineare anche l'importanza del decisore politico che noi finalmente attendevamo e al quale ha molto velocemente da darò la palla perché è così si diceva il Parlamento europeo in politica ha meno spazio di azione rispetto ad altre politiche però uno spazio di azione ce l'ha e la politica ha la possibilità i politici i rappresentanti politici influenzano tanto l'opinione pubblica che i propri pari e la domanda quindi che rivolgo con grande piacere a Fabio Massimo Castaldo che ringrazio di essere arrivato da noi è posto che sì sarebbe bello poter cambiare i trattati però è ancora più difficile che pensare all'allargamento probabilmente cambiare i trattati quindi sebbene l'ordinamento interno vada modificato per il momento probabilmente a questo ci teniamo e la conferenza sul futuro dell'Europa avrebbe come scopo proprio quello di aprire la discussione per creare un consenso su un eventuale possibile cambiamento in quale direzione ma i politici i leader politici appunto sono in grado di influenzare le nostre valutazioni perché in teoria appunto sono a conoscenza dei dettagli e quindi la domanda principale da cui siamo partiti onorevole Castaldo è quello di cercare di capire quali sono le azioni che il Parlamento europeo può mettere in campo per rilanciare il processo di allargamento e andando magari veramente nel concreto perché ci sono gruppi politici e la domanda è quanto sono attivi rispetto al processo di allargamento ci sono lei è un rappresentante italiano ma non sono molti rappresentanti italiani né a livello nazionale nella politica nazionale né a livello di Parlamento europeo che si sono davvero impegnati negli ultimi anni a favore dei Balcani e il Parlamento europeo dentro il Parlamento europeo quanti dei suoi colleghi appunto che ci rappresentano hanno partecipato alle missioni elettorali nella regione hanno stabilito un rapporto diretto con le controparti nei paesi o hanno provato a includere i Balcani occidentali appunto nella conferenza sul futuro dell'Europa so che lei è uno di quelli quindi le lascio volentieri la parola con la speranza che lei in qualche modo quasi entri nel tecnico perché secondo me è importante per provare a capire come lavora il Parlamento europeo anche capire che spazi ci sono per un'influenza politica trasversale e le ragioni su cui per cui bisogna fare influenzare altri stati membri altri politici altri paesi membri sono davvero tante dal riconoscimento del Kosovo che manca in cinque paesi membri a tante altre questioni tra cui appunto nel caso tecnico della Bulgaria specifico della Bulgaria verso la Macedonia del Nord far aprire una conferenza intergovernativa a lei la parola onorevole la ringrazio dottoressa Chiodi e devo dire che tra l'intervento prima del dottor Spagnoli e il suo in realtà gli stimoli gli spunti di riflessione sicuramente non mancano anzi la serie insomma di questioni su cui mi sollecitate è ampia cercherò proverò a svilupparla in un modo abbastanza organico partiamo da un punto noi effettivamente credo che stiamo commettendo un profondo errore nei confronti dei Balcani occidentali per un motivo molto semplice che almeno per quello che vedo esperimento ogni giorno all'interno delle discussioni dal Parlamento europeo ma in generale nei rapporti tra le nostre tre istituzioni che stiamo facendo pagare ai futuri stati membri il prezzo e il costo della cosiddetta fatica dell'allargamento legata alla incapacità dell'Unione di sapersi riformare dall'interno è come se stessimo implicitamente riconoscendo che c'è in questo momento un enorme ostacolo di ordine politico nel voler portare avanti il progetto il cantiere dell'integrazione europea risolvendo una serie di esimmetrie di difficoltà di incoerenze e di incongruenze che sono ancora all'interno della nostra attuale architettura tra cui ovviamente non posso non citare l'unanimità per quanto riguarda la politica estra e l'unanimità in materia fiscale che sono a mio avviso i due ostacoli maggiori in questo momento all'interno appunto della nostra percorso di portare appunto l'unione nella fase successiva appunto della nostra integrazione ed evidentemente la risposta che viene data è una risposta di tipo di difesa dello status quo in buona sostanza il consiglio che ormai si erge costantemente a organo della conservazione in quanto incapace di trovare un allineamento una convergenza tra raggruppamenti di paesi che sono obiettivamente su traiettorie profondamente diverse non è un caso non dico nessun segreto se affermo questo basta vedere anche da ultimo la legislazione omofoba che sta adattando l'Ungheria e la reazione vehemente che io condivido pienamente che sostengo da parte della maggior parte dei governi ma devo anche constatare purtroppo che c'è un blocco non indifferente che invece è rimasto quantomeno in un colpevole silenzio oggi quindi noi abbiamo una linea di frattura molto evidente che in un certo senso divide l'Europa da nord a sud per quanto riguarda l'impostazione economica ma la divide da ovest a est riguardo quella politica forse dal punto di vista economico questa frattura in questo momento storico si è in parte ricomposta perché la pandemia ci ha consentito di smuovere un dibattito che era totalmente paralizzato e quindi di adottare il next generation una prima forma di debito comune che è un passo enorme e ovviamente starà a noi anche farne un saggio e oculato uso affinché poi ci si dia il giusto argomento nella conferenza sul futuro dell'Europa per chiederne la perennizzazione per trasformarlo quindi da uno strumento una tantum a uno strumento invece pienamente costituzionalizzato se mi passate il termine ovvero pienamente incorporato nell'architettura permanente dell'Unione e dall'altro lato però invece non vedo alcuna forma di progresso nel dialogo tra ovest-est per quanto riguarda il futuro appunto dell'integrazione stessa il chi vogliamo essere un grande attore geopolitico uno stato che va verso un'unione federale come io ospico da federalista europeo o piuttosto invece al contrario una semplice aggregazione di stati su un modello diciamo confederale estremamente lasco in cui non si va oltre le materie non controverse e evidentemente questo ha tutto vantaggio di chi vorrebbe affrontare i suoi rapporti con l'Unione con un approccio di dividi e timpera quindi una divisione appunto tra gli stati evitando appunto che con una linea comune si possa sedere legittimamente portando il valore aggiunto del modello europeo nei grandi consessi multilaterali così come appunto con piena legittimità confrontarsi con le altre potenze globali che in questo momento dominano il dibattito a livello internazionale tornando alla domanda sui Balcani occidentali quindi all'argomento principale di questo tema noi abbiamo sullo sfondo questo dibattito e l'Europa in questo momento è un'Europa che dà l'impressione credo ai paesi a tutti e sei paesi dell'aria con i dovuti distinguo di un'entità che è troppo rivolta in direzione del suo ombelico lei mi chiedeva prima quanti si sono effettivamente impegnati sull'allargamento io le risponderei molto pochi siamo un club estremamente distretto la maggior parte con notevole eccezioni però la maggior parte riguarda paesi confinanti abbiamo normalmente un impegno abbastanza forte di Sloveni e Croati però abbia ragione comunque sono gli unici due paesi dell'ex Jugoslavia che hanno già integrato la famiglia europea qualche austriaco magari ecco c'è un'attenzione da qualche paese appunto confinante dell'est Europa tradizionalmente la Germania è abbastanza attenta ma io le posso dire con sommo rammarico e profondo dispiacere che non ho visto nessun altro intervento di parlamentari italiani negli ultimi dibattiti che noi abbiamo avuto sui progress reports dei sei paesi appunto dell'allargamento e anche questo secondo me è un segnale di come l'Italia abbia un po' abdicato al suo ruolo di riferimento eppure in realtà abbiamo tutti gli elementi per continuare a esserlo io voglio ricordare che due iniziative fondamentali come l'iniziativa Adriatico Ionica da un lato ma anche appunto l'iniziativa centro-europea dall'altro sono due importanti lasciti dei nostri sforzi diplomatici e politici non a caso hanno sede una a Vancona e l'altra a Trieste forse avrebbero bisogno dal mio punto di vista di una modernizzazione profonda di essere ripensate riattualizzate anche in virtù del fatto che nel frattempo abbiamo avuto ulteriori iniziative penso all'Euser da un lato penso ma soprattutto al processo di Berlino dall'altro quindi devono ancora oggi secondo me portare un valore aggiunto forte al cammino dell'integrazione dei sei paesi balcanici ma non vedo molto questo appetito io non cesso di stimolarlo l'ho fatto con delle proposte concrete come l'inclusione sin dall'inizio dei lavori della conferenza sul futuro dell'Europa dei rappresentanti dei sei paesi dell'allargamento su un piano di parità ovvero posso comprendere che non gli si dia il diritto di voto questo è evidente non sono ancora stati membri ma su tutto il resto devono essere degli osservatori permanenti e partecipare a ogni singolo dibattito partecipare a ogni singolo spazio e anche avere modo di poter loro dire la loro voce sulla nuova metodologia di allargamento sul processo in modo veramente franco limpido mettendo sul tavolo tutte le sue le assurdità le incongruenze e gli errori di questi ultimi anni e la cosa che mi fa più specie e che mi attrista più profondamente è pensare che nessuno ci ha pensato prima abbiamo un executive board e ho dovuto io prendere l'iniziativa scrivere a diversi colleghi e tanti hanno aderito a questa proposta abbiamo raccolto trasversalmente circa una trenta trentacempe firme avrebbero dovuto essere a mio avviso molto di più ma è comunque un segnale e adesso la conferenza sta correndo a ripari per bocca anche di Giverostat che rappresenta appunto il Parlamento europeo nell'executive board ci sarà una inclusione dalla prossima plenaria però il danno ormai di immagine è fatto per l'ennesima volta si è detto ai paesi dei Balcani occidentali voi non vi consideriamo non vi vediamo come i futuri stati membri vi vediamo piuttosto come degli stati terzi qualcuno ironicamente mi ha detto qualche ambasciatore forse anche quarti perché c'è qualche altro stato terzo con cui i rapporti sono più stringenti e lo stesso cosa è valso anche per la vaccinazione siamo corsi anche lì ai ripari con grande fatica ma i Balcani occidentali non sono appunto una periferia sconfitta dell'Unione sono il cuore pulsante dell'Unione stessa e anche lì avremmo dovuto immaginare un piano vaccinale europeo che sin dall'inizio li includesse pienamente perché se ci sono focolai in Serbia in Montenegro in Bosnia o in Macedonia del Nord sono focolai che portano un problema alla salute banalmente al di là appunto della nostra approccio del nostro slancio almeno mio personale e credo di tutti i partecipanti a questa conferenza saluto il mio carissimo amico Paolo peraltro che è da sempre stato per me un grande punto di riferimento nelle nostre discussioni al Parlamento europeo non solo sui Balcani occidentali ma trasversalmente abbiamo lavorato molto molto bene insieme e spero appunto di rivederlo anche più di frequente a queste latitudini bruxellesi ecco la mia sensazione è che anche lì il messaggio è stato beh prima se l'America ha detto America first anche noi in un certo senso abbiamo detto you first non magari nell'export perché abbiamo comunque consentito ai paesi che avevano la disponibilità di poter comprare le dosi non abbiamo interrotto le esportazioni ma qui parliamo di paesi che purtroppo le disponibilità spesso non le hanno e avremmo noi dovuto anche visto la taglia demografica nell'insieme appunto dei paesi mandiamo oltre gli 11-12 milioni vado a memoria che avremmo potuto sin dall'inizio prevedere una distribuzione capillare nei sei paesi dare un segnale quindi di grande attenzione e vicinanza purtroppo l'hanno fatto la Turchia la Russia la Cina al posto nostro e questo è un ulteriore danno che si aggiunge perché purtroppo è tutta come possono tutti assist a buon mercato per una propaganda che dice l'Unione vi ha dimenticato non ha alcuna volontà nel breve termine di inglobarvi guardate le difficoltà politiche guardate la scarsa attenzione dal punto di vista sanitario il futuro possiamo essere noi ma questo è un futuro che purtroppo prevede modelli molto lontani dalle nostre liberal democrazie sono modelli autocratici i liberali liberticidi che chiedono invece di una stretta rispetto delle nostre dei diritti appunto dei cittadini balcanici in virtù magari di una maggiore crescita economica o di un maggior slancio dal punto di vista commerciale ma quindi appunto si mette in una sorta di baratto l'interesse all'integrazione ai valori dell'integrazione da un lato lo si scambia appunto per qualcos'altro che non è sicuramente nell'interesse appunto dei popoli balcanici ma questo dico è colpa di chi ci fa concorrenza o forse anche colpa nostra comunione se si fosse seguita la linea del Parlamento europeo non saremmo senz'altro non ci saremmo ritrovati in questa situazione veniva ricordato prima che nel corso di questi ultimi anni purtroppo abbiamo visto delle vere e proprie giravolte con promesse più volte tradite la macetà del nord è di fatto paralizzata dopo aver fatto uno sforzo straordinario non lo si ricorda abbastanza ma hanno accettato di cambiare il proprio nome costituzionale di definirsi in un modo diverso pur di venire incontro in una controversia internazionale a un altro stato sovrano lo hanno fatto assumendosi una grande dose di irresponsabilità e di coraggio così come coraggio ha avuto Tsipras e lo ricordava anche Paolo in un articolo appunto di poco successivo agli accordi di Prespa così come coraggio appunto ha avuto Tsipras a portarlo avanti ma la risposta europea è stata comunque ci sono altri problemi e vi lasciamo in attesa ma quanto potrà durare questa attesa? Io credo che sia tutto benzina sul fuoco della retorica nazionalista di voler ritornare appunto a un approccio assolutamente di rottura e credo che quindi siamo noi stessi appunto la stessa causa principale dello scoramento di una certa disaffezione forse anche di mancanza di fiducia nel voler perseguire gli sforzi che servono ad allinearsi alla qui comunitaire c'è bisogno di dare segnali ben diversi il Parlamento nei suoi progress report pur essendo duro deve esserlo sulle condizionalità dall'altro lato però reitera il nostro pieno impegno nella prospettiva dell'inclusione dall'altro lato però abbiamo ripeto un consiglio in cui prevalgono tatticismi elettorali di breve durata vale appunto per le sensibilità olandesi e francesi e danesi vale sicuramente ancora per la situazione bulgara e il fatto che si debbano ripetere le elezioni sicuramente non ci aiuterà perché anche qui io non voglio fare prova appunto di pessimismo ma mi sembra abbastanza improbabile che ci possa essere un cambio di posizionamento del governo bulgaro finché appunto non saranno terminate di nuovo le elezioni che non hanno dato la possibilità di creare una maggioranza ma nel frattempo appunto il messaggio che si dà è un messaggio estremamente negativo e credo che l'Italia debba assumere maggiore protagonismo sono contento e l'ho sentito più volte da parte del ministro Di Maio un'attenzione comunque un sostegno anche alle proposte che ho fatto al Parlamento Europeo di inclusione nella conferenza così come una volontà di rafforzare il nostro ruolo nel facilitare le relazioni bilaterali tra Serbia e Kosovo la sua recente visita è un segnale molto positivo ma credo che noi dobbiamo farlo in un modo molto più sistemico mettendo in sinergia tutte le grandi qualità che possiamo vantare il retaggio storico di iniziativa appunto come la INCE e come la IAI dall'altro lato abbiamo pure anche una significativa presenza di attori economici di imprese italiane molto ben radicate specialmente in alcuni paesi la nostra cooperazione che è stata straordinaria che ha rappresentato un grandissimo punto di riferimento durante appunto le guerre degli anni 90 che ha lasciato anche lì un retaggio importantissimo in queste comunità siamo credibili e visti come un attore che ha davvero l'interesse di perseguire una piena inclusione integrazione e stabilizzazione dell'aria non appunto mire esclusivamente di commerciali o politiche di altra natura abbiamo poi da mio avviso carte molto importanti da giocare anche dal punto di vista culturale serve secondo me creare un sistema più performante per coltivarle e quello che propongo mi piacerebbe vedere è una conferenza annuale per il rapporto appunto per coltivare rapporti tra l'Italia e i Balcani occidentali un po' sul modello di quello che si fa con i Med Dialog per quanto riguarda il Mediterraneo in senso più lato ma soprattutto un maggiore coordinamento tra la rappresentanza europea italiana e le sei ambasciate italiane in loco per costruire appunto una strategia di accompagnamento di presenza e di sostegno nel cammino all'integrazione così come appunto una strategia anche di facilitazione dei rapporti delle discussioni con gli attori geopolitici coinvolti appunto a livello europeo in questa difficile negoziazione quindi un processo quindi di ravvicinamento e anche di messa a nudo degli interessi elettorali di breve periodo che hanno caratterizzato alcuni veti totalmente ingiustificati e che non incoraggiano nemmeno un sano more for more and less for less in teoria la razza di questa nuova metodologia si deve proprio raggruppare in cluster dare più credibilità trasparenza e visibilità ma se a fronte poi dei passi ci sono sempre ostacoli che nulla hanno a che vedere appunto con i progressi concreti sui singoli dossier e che sembra più un esercizio appunto legato a procrastinare appunto il percorso senza alcuna vera ragione piuttosto che un esercizio veramente ancorato a garantire una maggiore credibilità del processo adesso abbiamo anche un altro appuntamento molto importante tra pochi giorni comincerà la presidenza della Slovenia che appunto è un paese fortemente interessato all'area per ovvie ragioni è un paese ex jugoslavo è un paese che però è stato al centro di una querelle abbastanza surreale per quanto riguarda il non paper e che non è stato mai riconosciuto ma neanche mai ufficialmente sconfessato dagli attori coinvolti in primis anche da Charles Michel io spero che il messaggio che la presidenza voglia lanciare non sia quello di strane alchimie o smembermenti territoriali che sembrano più ricordare appunto le guerre balcaniche del secolo scorso più che una saggia e intelligente opera di ricostruzione e anche di state building legata appunto al profondo ancoraggio al rispetto delle minoranze e dei diritti fondamentali spero quindi che la Slovenia assuma un contorno costruttivo un approccio assolutamente legato quindi a un impegno di rilancio di superamento dei veti piuttosto che a retoriche che fanno riemergere dal passato gli spetti della grande Croazia della grande Serbia della grande Albania che sarebbero secondo me ulteriormente forieri di alimentare conflitti di alimentare divisioni probabilmente insanabili e non escluderei e poi se la situazione sfuggisse di mano di riaprire ferite che talmente dolorose da poter addirittura far pensare a provocazioni di natura militare Dio non voglia quindi detto questo la nostra spinta come parlamentari europei poi deve essere molto forte deve essere nella sede del Parlamento europeo per evitare appunto che non solo la presidenza ma qualsiasi presidenza prenda sotto gamba l'argomento lo usi appunto a fini elettorali interni che è sempre la scelta più disgraziata e inaccettabile per quanto riguarda la politica estera dall'altro lato io auspico che ci sia una forte alleanza tra il Parlamento europeo i Parlamenti nazionali e la società civile quindi tutti i cittadini europei che parteciperanno alla conferenza sul futuro dell'Unione europea non soltanto quindi per quanto riguarda il tema dell'allargamento ma più in generale per quanto riguarda il tema delle riforme dell'Unione quindi una forte spinta democratica dal basso tra i rappresentanti dei cittadini delle istituzioni e i cittadini veri e propri appunto per fare un massa critica e impedire che per l'ennesima volta si trasformi la conferenza in una passerella mediatica in cui gli attori gli addetti ai lavori fanno magari sfoggio appunto delle personali convinzioni senza avere un esito che sia tangibile non so se avremo la forza di riuscire a rivedere i trattati come io auspico e combatterò fino all'ultimo secondo per ottenere questo e per perennizzare appunto il next generation per passare a un vero bilancio federale dell'Unione allargare anche il QFP perché è difficile essere un attore geopolitico se si ha semplicemente un bilancio a poco più dell'un per cento mi sembra un po' un ossimoro dal punto di vista politico ma dall'altro lato anche il tema dell'allargamento spero con la spinta appunto dei cittadini possa essere pienamente centrale ed è per questo che ho chiesto che la partecipazione totale dei cittadini dei Balcani Occidentali sullo stesso livello di quella degli altri cittadini degli stati membri quelli che sono già stati membri perché io ripeto li vedo sempre come futuri stati membri non li vedo come paese canneati all'allargamento per me l'inclusione dei Balcani Occidentali è una necessità secondo me storica ed etica ancora prima che politica pertanto con questa spinta forse potremmo quantomeno e un po' incastrare passatemi il termine quegli stati che dicono di voler essere assolutamente prointegrazione dicono di voler essere assolutamente favorevoli a un cammino in senso federale dell'unione e quindi chiedere loro nella peggiore dell'ipotesi quindi non ci fosse un'animità o comunque un accordo per riformare i trattati di attivare una cooperazione rafforzata e quindi di andare avanti nel quadro normativo esistente il più possibile e se avessimo aspettato nel cinquantasette la convergenza di tutti gli stati europei dell'epoca all'intorno di una comunità economica europea probabilmente staremo ancora aspettando sei hanno avuto il coraggio di gettare il cuore oltre l'ostacolo e di sanare le ferite della guerra mettendo in comune al posto di litigarsi fazzoletti di territorio forse non dico quegli stessi sei ma altri che potrebbero anche aggiungersi l'ideale sarebbe avere l'intera zona per esempio a bordo già potrebbe essere un segnale molto significativo potrebbero riuscire a sbloccare la situazione diciamo che è un piano B rispetto alla revisione trattati che sarebbe la via maestra ma è un piano B che io coltiverei con grande attenzione e chissà appunto che questo rinnovato slancio e la spinta dei cittadini non ci riesca anche a far avanzare fortemente non solo nella politica estera ma anche nell'intero campo dell'allargamento grazie grazie mille per questa panoramica che ha toccato tanti tanti aspetti molto importanti io dico solo due parole rispetto a un tema che a me è molto caro che lei ha citato a un certo punto verso la fine certamente nei rapporti che l'Italia intrattiene con la regione la società civile italiana ha un ruolo particolarmente forte e ragionando iniziative messe in piedi tanto volute dall'Italia certamente c'è anche la macro regione Adriatico-Ionica che lei ha citato e lì si vede così chiaramente l'interesse italiano nel senso che è un interesse concreto se vogliamo affrontare i problemi ambientali dell'Adriatico non possiamo che farlo con i nostri con le nostre controparti balcaniche e lì il more for more che lei citava c'è appunto la possibilità di ottenere più risorse dall'Unione Europea qualora si dessero segnali incoraggianti sulle questioni ambientali dovrebbe assolutamente essere portato avanti da noi con comunità perché si faccia oggi si prendessero tutte le risorse messe a disposizione per i Balcani per la transizione energetica e l'ambiente e sono sostanzialmente le risorse degli IPA chiamate appunto IPA non basterebbero tutte quelle risorse per un solo paese e saremo ancora lontani dall'avere affrontato una transizione ecologica come si vorrebbe fare quindi la questione diventa che se noi vogliamo la transizione ecologica per noi e abbiamo bisogno di averla anche per i nostri vicini ne abbiamo veramente bisogno e quindi in questo senso questa grande queste grandi reti che la macro regione del lato italiano che ha messo in piedi tutta questa presenza di attori economici ma soprattutto professionisti ambientalisti realtà del turismo c'è un'enorme quantità di soggetti italiani che sono coinvolti con i Balcani sono credo un bacino anche elettorale che dovrebbe veramente essere ricordato più spesso alla nostra classe dirigente con questo mia ultima nota lascio per un commento finale velocissimo a Paolo Bergamasca e Roberto Spagnoli da rivolgere possibilmente all'onorevole Castaldo e poi in pochi minuti direi che chiediamo perché gli incontri a distanza sono sempre particolarmente faticosi Paolo andiamo in ordine di comparso di apparizione no io essendo io qui a Pristina non posso che cercare di attirare la vostra attenzione anche quella di Fabio anche se Fabio lo conosce perfettamente la situazione qui che noi siamo investiti come sempre quando si arriva a Pristina dalla questione della mancata concessione della 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 liberalizzazione del visto per quanto riguarda il Kosovo sono meno di due milioni di abitanti purtroppo è rimasto dentro compresso in questo vortice di questa tempesta quasi perfetta che impedisce a questo paese che è l'unico fra i sei che non può ancora godere della liberalizzazione dei visti per cui i cittadini del Kosovo ogni volta che arriva qui qualcuno dall'Europa sempre la stessa domanda perché non ci concedete il visto perché non ci date la possibilità ci state umiliando ci state distruggendo ricordiamo che il Kosovo ha una media di popolazione molto bassa sono molto giovani la popolazione in genere sono ragazzi che vorrebbero venire in Europa anche capire un po' di più come funziona l'Europa purtroppo sono chiusi in un ghetto questo è uno dei paradossi dell'Unione Europea e noi sappiamo come tornando a dire essendoci per quanto riguarda la concessione dei visti c'è la maggioranza qualificata funziona così a livello di consiglio però basta che ci siano dei grandi paesi che poni il veto che nessuno si prende la briga di cercare di superare il veto di quel paese in questo caso la Francia che non si capisce perché ha fatto diventare come elemento di scontro politico la questione della liberalizzazione dei visti per i kosovari a tal punto che si sa benissimo che fino al maggio dell'anno prossimo quando ci sono le elezioni presidenziali questa questione non potrà essere affrontata e la Francia non darà luce verde alla liberalizzazione del visto con il kosov è una situazione paradossale come ce ne sono tantissime tu Luisa potresti fare l'elenco faremo notte ma anzi faremo la notte fino al giorno dopo a discutere delle situazioni degli ingorghi dei coaguli che si sono creati che impediscono che la macchina europea si muova con la fluidità necessaria per affrontare una situazione così complicata così intricata come quella dei Balcani quella del kosov è uno dei tanti esempi ma ricorderei anche l'ingorgo diplomatico del fatto che l'Unione Europea sta cercando di avere nei confronti del kosov una politica coerente ma che non può avere una politica coerente perché su 27 paesi ce ne sono ancora 5 che non riconoscono la sovranità e l'indipendenza del kosov chiudo qui se non mi sposterai tra quella grazie grazie Paolo Roberto Roberto Spagnoli a te un'ultima osservazione prima di ridare la parola all'onorevole Cassato io mi riallaccio al discorso della comunicazione mi ricordo che nel 2013 quindi 8 anni fa proprio con Selvatorio Balcani Capso e Radio Radicale e anche altri soggetti facciamo un progetto racconta l'Europa all'Europa con cui raccontavamo all'Europa i paesi che erano in vista di adesione poi di quelli solo la Croazia che ormai era addirittura d'arrivo ecco io credo che oggi parafrasando quel titolo bisogna comunicare l'Europa all'Europa perché è fondamentale per i paesi candidati e quindi i paesi candidati vanno raccontati per quello che sono per la loro realtà e non solo pensare ai Balcani come alla polveriera balcanica come alla balcanizzazione e che ti senti ancora dire ah vai nei Balcani ma lì è tutto tranquillo invece raccontare la realtà di quelle società di quei mondi di loro contraddizioni ma questo è vitale anche per noi per i paesi che sono già membri perché è l'antidoto al 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 sovranismo il sovranismo è un eufemismo con cui chiamiamo il nazionalismo e il nazionalismo è stata la peste che ha creato che ha devastato questo il novecento l'Europa è stata la culla di due conflitti mondiali uno seguito all'altro che sono nati sul proprio sul nazionalismo allora occorre comunicare l'Europa all'Europa e poi Robert Schumann nella sua famosa dichiarazione disse che l'Europa si farà non si farà da un giorno all'altro si farà per delle realizzazioni concrete ecco bisogna costruire un sentirsi europei nelle giovani generazioni la questione dei visti e della libera circolazione è fondamentale provate oggi a dire a un ragazzo di 16 anni 17 anni italiano che per andare in Danimarca deve fare il visto cambiare far vedere la frontiera il passaporto cambiare la moneta come facevamo noi quando magari prendevamo l'interrail cioè adesso è normale tu parti con la carta di identità e vai a Stoccolma e la moneta è la stessa insomma non ancora in tutti i paesi ma insomma diciamo questo dobbiamo far sentire dobbiamo costruire dei cittadini vanno costruiti dei cittadini europei cioè io mi sento europeo io mi sento un europeo nato in Italia così come mi sento un italiano nato nel mio paese ecco è così che si costruisce l'Europa per delle realizzazioni concrete e però quest'Europa va raccontata va spiegata e questo secondo me aiuta anche a superare quei problemi dell'ordinamento che andranno per i nodi che andranno risolti perché altrimenti poi l'integrazione non ci sarà non riusciremo a costruire un'Europa via via sempre più federale grazie mille Roberto tra l'altro richiamo a raccontare l'Europa e il nostro impegno quotidiano il nostro desiderio anche di farlo di più farlo meglio e non è sempre stato facile in questi anni varie volte mi è stato detto i Balcani sono finiti dottoressa basta adesso e con affermazioni del genere le ho sentite numerose volte per indicare che non serviva più il nostro lavoro a lei onorevole Castaldo le conclusioni di questa nostra chiacchierata nella speranza che non sia l'ultima di questi temi ma presto ce ne siano altre quando vorrete sarà sempre un enorme piacere anche perché ormai ho talmente sposato la causa che quest'anno avendo fatto un master ho scelto proprio come argomento un master di strategia globale di sicurezza la sfida del Balcano Occidentale per l'Italia e per l'Unione Europea quindi direi che anche dal punto di vista accademico ci tengo molto a coltivare l'approfondimento e lo studio di questa posso dire una cosa il problema è che Luisa ti toccherà di pubblicarlo sul sito dell'osservatorio credo che non basti perché è parecchio ingombrante non so se riuscirà comunque ecco tornando e riallacciandomi subito alle considerazioni di Paolo Di Roberto che peraltro condivido pienamente ecco l'esempio dei visti credo che sia l'esempio più lampante dell'iniquità che stiamo purtroppo tollerando nei confronti dell'unico paese che in questo momento non ha un regime di liberalizzazione anche qui per scopi prettamente elettorali di consenso a buon mercato mi verrebbe di dire una battuta amara come se appunto la retorica di magari di organizzazioni criminali o altro fosse legata a un paese di neanche due milioni di abitanti è evidente che si lavora sulle percezioni si lavora anche qui su un consenso costruito di nuovo nella paura dell'altro del timore che l'altro sia diverso da me ma il Kosovo è un paese generamente europeo e credo anche che oltre a lavorare velocemente per sbloccare un voto che dia finalmente il via e là appunto alla normalizzazione della situazione perché per me a normale è quello che stiamo vivendo bisognerebbe finalmente sedersi intorno a un tavolo con i cinque paesi che ancora oggi non riconoscono nell'immensa del Kosovo per far comprendere che il loro veto è una delle cause e degli ostacoli principali che impedisce all'Unione Europea di essere un honest broker quindi un mediatore equilibrato ci sono due attori in questa difficile questione e purtroppo uno è evidentemente parte in una situazione profondamente svantaggiata perché non è pienamente percepito e considerato dal punto di vista giuridico e legale uno stato a pieno titolo rispetto all'altro io credo quindi che anche in questo caso si debba esulare dalla realpolitik di corto termine e operare un lavoro una scelta di ordine geopolitico molto consapevole di lungo termine invece perché vedete un po' la percezione che vedo lo diceva benissimo Roberto anche poco fa quando parlava di comunicazione dell'Unione Europea è che con il ritorno in potenza degli ultri nazionalismi e del sovranismo si sia tornati all'idea che le identità si scontrano si elidono ma non si sommano io credo che invece la grande forza del progetto europeo sia aver dimostrato che le identità si sommano io mi sento romano mi sento italiano ma mi sento anche europeo e queste tre identità non sono in contraddizione ognuna arricchisce l'altra e mi caratterizza mi denota come persona io invece credo che ci sia un preciso scopo da parte appunto delle forze di estrema destra nel voler di nuovo riacutizzare una percezione novecentesca del concetto di cittadinanza non basato a quindi ripeto su una serie appunto di cerchi concentrici in cui l'uno include l'altro e non si spone appunto in contrapposizione ma piuttosto su uno scontro che polarizza perché la polarizzazione crea consenso a buon mercato è il classico la classica retorica del voler sempre scaricare il peso di decisione di scelte errone sull'Europa senza poi spiegare cosa vuol dire stare veramente all'interno delle istituzioni e lavorare con concretezza e serietà per arrivare a una sintesi che sia veramente equilibrata se c'è una componente ad esempio se ci sono alcuni europarlamentari che non lo svolgono questo con serietà a prescindere da quelle che sono le opinioni dei singoli e delle varie famiglie politiche come è giusto che sia una democrazia è difficile accettare l'idea che si possa scaricare la colpa sull'istituzione in sé colpa sarà stata appunto di chi non ha saputo rappresentare la voce delle istanze dei cittadini nel modo più giusto per poter arrivare a una sintesi maggiormente equilibrata e ripeto quindi abbiamo un problema politico abbiamo un problema di percezione anche la comunicazione dovrà essere profondamente rivista sia del livello europeo in sé ma sia appunto dell'Unione europea dei stati membri verso i Balcani occidentali perché in questo momento stiamo lasciando facilmente campo libero a quattro grandi attori che io ho cercato umilmente anche di sviscerare nelle loro strategie nella regione che sono appunto da un lato la Turchia dall'altro la Russia dall'altro terzo la Cina e poi i paesi del Golfo che è un po' accomunato anche se in realtà il discorso sarebbe un pochino più complesso ma è evidente che questi quattro attori hanno più un interesse a lasciare questa regione non pienamente integrata all'interno dell'Unione o meglio a veicolare questo processo prodomopropria che a svolgere appunto il ruolo di acceleratori o di comunque di supporto di aiuto nei confronti appunto di un'integrazione di valori che contrasta con i modelli di Stato che loro stessi propugnano questo mi pare abbastanza evidente se noi cambiamo il paradigma se noi veramente dimostriamo che al passo in avanti corrisponde automaticamente il passo in avanti io credo che questo slancio si ritroverà in questo momento è vero c'è meno forse meno convinta adesione c'è meno volontà perché è stata ferita appunto dalle incomprensibili scelte di questi ultimi anni da parte di quelle opinioni pubbliche con dei distinguo perché chiaramente la situazione della Serbia non è magari quella dell'Albania e questo lo sappiamo molto bene sia dal punto di vista economico che dal punto di vista anche politico ma io credo che sotto la fiamma della volontà di sentirsi parte della famiglia europea ancora c'è siamo noi che dobbiamo far capire passare il messaggio con le azioni concrete e non semplicemente con le dichiarazioni retoriche che non ci sono Balcani occidentali senza l'Unione europea e non c'è l'Unione europea senza i Balcani occidentali se noi faremo passare questo messaggio con chiarezza con un'agenda credibile per l'allargamento dando tempistiche certe dimostrando che gli sforzi vengono immediatamente ricompensati per il valore politico che hanno io credo che potremmo ricominciare questo percorso e alcune scelte importanti sono state fatte anche il fondo di investimenti appunto recentemente avvarato a fine dell'anno scorso è un'iniziativa molto concreta non c'è mai stato un piano così ad ampio spettro che può agganciare i Balcani occidentali veramente alle grandi sfide di questo mandato penso al Green Deal in questo si vorrebbe finalmente in controtendenza con alcune scelte di politica energetica che ci preoccupano perché purtroppo lì per colpa ecco appunto anche lì di una mancanza di incentivi in tanti paesi si stava virando verso il carbone forse adesso potremmo di nuovo riagganciarli pienamente al Green Deal e questo è un fatto un fatto lo è anche nelle infrastrutture su cui dovremmo essere un pochino più presenti onde evitare che siano altri sempre a costruirle magari non necessariamente quelle più utili vedasi il caso del Montenegro ecco con l'Unione Europea presente sui grandi temi presente sull'accesso di questi cittadini alle nostre non solo il nostro mercato unico ma pienamente alla nostra Unione con l'Unione Europea che fa l'Unione Europea e non è piegata su se stessa si può ridare veramente questo slancio io credo nei segnali positivi che stiamo cercando di dare sarà un cammino faticoso e tortoso ma abbiamo davvero bisogno anche del lavoro eccellente che come osservatorio svolggete ogni giorno per cambiare la narrativa e far veramente comprendere che chi è dall'altro lato dell'Adriatico in realtà è un pezzo di noi stessi e non è nient'altro più che un diciamo è un arto del nostro continente che non può in alcun modo tollerare esclusioni irragionevoli o essere vittima di ragionamenti di breve periodo io ci credo fortemente e spero molto presto che avremo modo di portare avanti altre iniziative che possono servire a alimentare questa coscienza e conoscenza perché in fin dei conti appunto ben difficilmente si può essere coscienza se non c'è conoscenza e questo lo spero che valga soprattutto per le nuove generazioni perché diceva benissimo Roberto poco fa è intollerabile per un giorno di oggi pensare di dover viaggiare con magari appunto chiedendo visti chiedendo permessi all'interno dell'Unione Europea ma non dimentichiamoci neanche l'insegnamento di Tocqueville in una democrazia ogni generazione è un nuovo popolo quindi non dobbiamo neanche dare per scontato che ci sia quella intima e convinta adesione se non siamo noi capace di far comprendere quanto è stata difficile perseguirla e quanto valore aggiunto porta quindi ecco slancio ma sempre quella consapevolezza che non dobbiamo mai abbassare la guardia vi ringrazio spero che di rivederci molto presto ringrazio io voi di cuore è stato molto interessante questo scambio e quindi ringrazio l'onorevole Castaldo ringrazio Roberto Spagnoli e ringrazio Paolo Bergamaschi e anche i miei colleghi che mi hanno assistito dal punto di vista tecnico nonché naturalmente che tutti i giorni insieme a me lavorano a tenere in piedi l'Osservatorio Balcani Caucus in tutte le sue complicate sfaccettature speriamo di avere nuove occasioni di vederci e a presto grazie ancora forza Luisa grazie Luisa e buon lavoro a presto a presto 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 a presto Grazie.